Dopo quasi un mese di convalescenza dal Covid-19, l'assessore agropolese Roberto Mutalipassi ritorna al suo posto amministrativo e dichiara di rimanerci fino a fine mandato, non seguendo le decisioni del suo gruppo civico Agropoli Oltre di passare all'opposizione. Mutalipassi era stato in più occasioni indicato dal suo gruppo come possibile candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative agropolesi, ma domenica ha sciolto definitivamente le riserve. In queste ultime settimane, che tra l'altro mi hanno visto contagiato insieme alla mia famiglia dal Covid-19, scrive Mutalipassi, ho avuto modo di riflettere sulla scelta sofferta, soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani, da compiere dopo la decisione presa dal Presidente del Consiglio Comunale di dimettersi dal suo incarico. Con lui, oltre ad altre esperienze politiche, abbiamo condiviso la scorsa campagna elettorale, tutto il percorso che mi ha permesso di assumere il ruolo di assessore, quindi una serie di proposte e decisioni operate nel solo ed unico interesse della comunità di Agropoli, in seno all'amministrazione in carica. È stata fatta una grande opera di risanamento del bilancio, continua l'assessore, posto in notevole sofferenza, oltre ad una serie di azioni funzionali a stare vicini a quelle categorie fortemente segnate dalla pandemia. Un percorso virtuoso che mi ha visto maturare politicamente ed anche dal punto di vista umano, personale e professionale. Un'esperienza motivante che mi ha riempito di orgoglio e mi fa sentire soddisfatto del lavoro finora svolto. È per questi motivi che sento forte dentro di me la volontà di proseguire il cammino intrapreso e portarlo fino alla fine, alla scadenza naturale del mandato. Sono abituato a portare a termine le cose che inizio e questa volta non fa eccezione. Mi scuso sin da ora se questa scelta deluderà le attese di chi aveva magari pensato condividessi strade alternative. Infine conclude rispetto le decisioni altrui e confido si possa fare altrettanto con le mie fatte sempre, con l'intento di costruire e mai di demolire in bocca al lupo a tutti.